Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, allora questo è l'ultimo video di questo anno 2019 e sono veramente felice perché, anzi no come è il video, allora ragazzi sono talmente uforico, vabbè comunque sono contento perché avevo preso delle scarche su Zalando ovviamente spero, anzi se mi vuoi pagami, però vabbè, l'ho preso su Zalando però in realtà il pacco è di, che ce l'ho scritto anche qua, kickz.com ah se vuoi pagami io ci sono, allora il pacco comunque l'ho preso su Zalando e non vi dico ancora che cos'è comunque sono felice perché era da tanto che le chiedevo e me l'hanno regalata i miei per Natale boh, la scatola invece, questo era il pacco generale, mentre la scatola invece qua ci sono tutti questi lavori qua che non mi interessano, e un pacco delle vans, sono delle vans, questo qua lo togliamo, sono delle scarpe che mi piacevano veramente tanto, infatti non vedo l'ora di aprirle perfetto che praticamente in un negozio a carpi che si chiama King le avevo già provate però poi ho preso già il numero e poi le ho comprate vabbè, qua ci sono tutti i lacci dentro che si nascondono comunque sono queste vans che mi piacevano talmente tanto che ho deciso di prenderle e ovviamente oggi è il 31 quindi stasera ovvero l'ultimo dell'anno me le metterò però dentro ci sono, non è, non è, non sono sporche però, beh comunque sono belle, l'interno è in pelle e poi mamma che c'è un secondo qua comunque la mia cameraman oggi è la mamma allora, qua c'è il tessuto e poi questo dovrebbe essere camoche, no? eh, ok qua poi ci sono tutti i pollicioni e poi la solita scritta vans of the wall e poi anche qua comunque ieri avevo fatto una storia su instagram che mi era arrivata anche questa qui aspettate che mi trovo la felpa allora, praticamente c'ho tutta alzo allora c'ho tutta la sliscia of the wall tutto dietro ovviamente anche questa sul zalando e poi ovviamente adesso non si vede per che giorno però questa qua con scritto vans questo pezzo qua dovrebbe essere, l'ho già provato su in camera, che comunque è catarin frangente quindi dovevo prendere anche la felpa identica solo che ovviamente è a maniche lunghe con scritto of the wall qua e anche il coso catarin frangente e i due laccetti per stringere il colp però purtroppo è alzato di prezzo e quindi non la volevo prendere scompata, ecco però comunque, ecco giusto perché se no sembra che me ne è arrivata solo una ho comprato queste scarpe e sono veramente molto felice perché era da tanto che le chiedevo allora, questo video può finire qua io spero che vi sia piaciuto e vi auguro anche un buon anno questo sarà l'ultimo video ovviamente del 2019 spero che vi sia piaciuto condividete il video in modo che così se anche i vostri amici non vedono il video lo condividete boh su whatsapp, sparo e allora, niente, spero che vi sia piaciuto lasciate un bel commento, iscrivetevi al canale noi ci vediamo in un prossimo video del 2020 per le ragazze